eccoci e bentornati sul mio canale nuovo appuntamento con il tg informativo di call of duty dopo le notizie di questi giorni di queste ore dalla live della trayarch degli approfondimenti della game informer volevo fare un video speciale per parlarvi di tre importanti aspetti di cui abbiamo parlato in questi giorni ma bisogna un attimo approfondirli perché ho dettagli veramente molto importanti parleremo innanzitutto delle meccaniche di gioco ma soprattutto ciò che è legato ovviamente agli spari e ai proiettili al sistema di livellamento all'interno di blackout e per finire di questa sorta di quartiere generale appunto della battle royale di black ops 4 quindi come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per continuare a supportare il tg informativo giornaliero passiamo a parlare subito della balistica che sarà uno degli argomenti più importanti per quanto riguarda la nuova battle royale di call of duty black ops 4 durante la live della trayarch da parte di dan bounting e di davide wonder si è parlato molto in merito appunto alle meccaniche di sparo e dei proiettili hanno dichiarato che i due fattori principali che andranno ad influenzare i proiettili sono la velocità con cui l'arma nello specifico li spara e quanto lontano potranno andare quindi la portata dei proiettili prima che praticamente scompariranno e ovviamente non arriveranno a destinazione per quanto riguarda le armi da cecchino il discorso è leggermente diverso perché bounting ha dichiarato che la caduta del proiettili non sarà un fattore di vantaggio durante appunto gli spari infatti ha dichiarato che i giocatori dovranno concentrarsi praticamente sull'obiettivo in movimento più che al discorso relativo all'altezza quindi non sarà importante a quanto pare in questa beta di blackout considerare l'altezza quindi più ci troviamo in alto e più dobbiamo considerare l'abbassamento del proiettili ma sarà più importante praticamente considerare come l'obiettivo si muove da che direzione e quindi sparare il proiettile avanti appunto al nemico prima che arrivi per colpirlo quindi cosa veramente molto ma molto interessante ha dichiarato inoltre che all'interno di blackout sapremo esattamente da che parte è arrivato lo sparo perché come accade nel multiplayer ci sarà un indicatore sullo schermo che ci fa capire da che parte sono arrivati i proiettili quindi sarà molto interessante sarà molto importante sparare al momento giusto nel posto giusto perché se no veniamo subito scoperti da tutti gli altri giocatori dagli altri team secondo approfondimento il sistema di progressione all'interno di blackout ovviamente la tryarch ha dichiarato che il modo per progredire all'interno di una battle royal è eliminare gli altri giocatori e magari ottenere il primo posto però il primo posto non sarà soltanto l'unico modo per progredire all'interno di blackout ha dichiarato che praticamente sarà importante cercare di arrivare nella top 10 top 15 o top 20 per cominciare a vedere importanti livelli di progressione infatti già in una top 15 possiamo cominciare a livellare velocemente bisognerà poi ovviamente tenere in considerazione quante uccisioni otterremo progredendo in questo modo a quanto pare sbloccheremo 5 personaggi mentre ci sarà un sistema separato per sbloccare tutto il resto delle skin personaggio di cui abbiamo parlato praticamente in questi giorni chiudiamo il video informativo speciale di oggi con il quartier generale o meglio la drop zone di call of duty black ops 4 svelata ieri sera per la prima volta da parte di treyarch e di cui volevo darvi maggiori informazioni praticamente questo non sarà uno spazio social più volte la treyarch ha dichiarato che all'interno di black ops 4 non ci sarà uno spazio social ma sarà praticamente sarà una lobby pre partita praticamente noi lanceremo la partita e ci ritroveremo all'interno di questa zona di lancio questa drop zone se la vogliamo chiamare così deployment arena se non ricordo male l'anno definita all'interno di questa zona potremo ad esempio utilizzare la tutelare ci saranno oggetti di gioco ci saranno armi ci saranno equipaggiamenti che noi potremo provare e utilizzare mentre stiamo aspettando il lancio della partita una volta che la lobby sarà completa e sappiamo che i giocatori saranno massimo 80 potremo salire sopra l'elicottero e ovviamente iniziare la partita cosa molto importante per quanto riguarda la tutelare quando noi ci lanceremo dall'elicottero la tutelare ci permetterà di muoverci liberamente sulla mappa però non potremo arrivare esattamente su tutta l'intera mappa ad esempio se partiamo tutto in basso a sinistra non possiamo riuscire ad arrivare volando dalla parte opposta potremo arrivare lontano ma non così lontano spero ragazzi che questo video di approfondimento perché erano tre argomenti molto importanti che volevo esaminare nel dettaglio con voi sono stati di vostro credimento fatemelo sapere e fatemelo capire con un bel mi piace e qui sotto nel video aspetto come sempre un vostro commento a riguardo e noi ci vediamo ad un prossimo video